Massimo Benino, Presidente del Comitato del Centro Storico. Qual è la collaborazione tra il Comitato del Centro Storico, il Comitato della Madonna del Carmine e l'associazione dell'Odegno Nato? È una collaborazione nata per stare insieme. Noi siamo un comitato di natura civica, siamo un comitato di cittadini riconosciuti dal comune. Molte delle anime del Comitato hanno anche una partecipazione religiosa al Comitato della Madonna del Carmine e poi c'è l'illuminata che è l'associazione che copre, che gestisce, che organizza questo evento. All'interno dell'illuminata c'è anche la splendida cena della Contrada Mondovì, come vedi una cena dove ci sono molti bambini, come puoi vedere, e ci sono tante persone di cuneo e di fuori che vengono a partecipare e a divertirsi. Quanti tanti sono? Ma siamo circa un 350, siamo leggermente meno degli anni scorsi, 350 liberi cittadini che vengono qua o si portano da mangiare e si portano al tavolo oppure si portano solo da mangiare e il tavolo li organizziamo noi. In più ci sono varie altre attività che gestiscono, danno la possibilità di mangiare senza portarsi niente. In totale saremo 6-700 persone, comunque è sempre una bella festa, un bel momento per stare insieme.